Musica 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 Dai Mauro non esagerare però C'è una maglietta addosso dammi qui vai Massimo vai anche te dai che ti riprendo vai Massimo vai Barbara dai vai Barbara fai come quelle del modo sicurizzato che arrivano su e stanno a trà oh ha sfatico fatto io e io i figli di me dai dietro magari no 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 se domani a chi stava adesso a tutto qui faccio io e quattro di Montesco no no bravo 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 le scarpe a dire che sono le scarpe a che pesa una cifra ma questa lana d'osso no babi c'è qui la scala ti voglio dire ti voglio dire no 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 si sta da nero si sta da nero come ho preso la fecola molla ahahah beh è schinterno come ho preso la fecola molla senti no dai i miei amici e trova che faccio poco stai lì dai oesco prendi il mio tieni ora non sono lì io avevo solo questi calzoni e io ce l'ho solo stasci la mano occhiali la quale è quale c'è un sorridente è pezzo di merda dovunque tu sia che sei un cavaliere dove are we what the hell is going on the dust the dust has only just began to fall crop circles in the carpet sinking feeling e era in tasse in piscina dove è andato? è andato? è andato? è andato? la chiama è spento è spento hai credo toccagliela batteria e fa la cigare no fa la cigare non suona togliela batteria togliela batteria hai le unghie ma togliela batteria subito immediatamente deve essere una cosa immediata ma cosa fai?